E' stato molto interessante il mio incontro con i 400 studenti del liceo Dante Alighieri di Matera. Io ho fatto una breve introduzione centrandola sul diritto al lavoro che da diritto di libertà oggi va a mio avviso reinterpretato come diritto pretensivo. Ma vorrei centrarmi sulle domande che hanno fatto gli studenti, che hanno chiesto qual era il procedimento che si seguiva davanti alla Corte, voleva sapere come veniva scelto il relatore, perché nel nostro ordinamento non è ammessa l'opinione dissenziente. Una domanda interessante è se la Corte Costituzionale sarebbe opportuno che intervenisse sulle regi elettorali immediatamente. Poi anche domande più sofisticate sul problema dell'interpretazione e l'aggrazione del diritto. E' stato chiesto chiarimenti sulla nostra sentenza sul fine vita. Poi una domanda particolare sulla presenza delle donne nella Corte Costituzionale.